C'è molta curiosità ed attesa nel veder salire sul palco dell'Arison l'ex frontman della boy band dei Dear Jack, Alessio Bernabéi, che è tra i cantanti big in gara presenti quest'anno al Festival di Sanremo. Il giovane, secondo classificato nel 2013 con il gruppo appunto dei Dear Jack, ha annunciato il suo ritiro dalla band il 23 settembre del 2015. Pertanto la sua carriera da solista inizia proprio dal palco dell'Arison, con il brano Noi siamo infinito, che rega la firma di Roberta Casalini e Dario Fai. Alessio suona il basso, la chitarra, il pianoforte ed in passato ha svolto i lavori più svariati come parrucchiere ed idraulico. Nella serata dedicata alle cover proporrà il brano a mano a mano del grande Riccardo Cocciano. Con i Dear Jack, Bernabéi ha partecipato con grande successo ai Music Awards 2014 in diretta su Rai 1. Nella partecipazione del 2013 al Festival di Sanremo con la sua ex band, oltre al secondo posto, Bernabéi ha ottenuto anche il premio della critica del valore di 50.000 euro. Dal 2 ottobre 2015 il posto di Bernabéi all'interno del gruppo è stato preso da Liner Riflessi. Per la vittoria finale al Festival di Sanremo, Alessio Bernabéi gode di buoni pronostici e gli scommettitori della SNAI lo quotano sette volte la posta dietro solo alla coppia Jurato Caccamo, Noemi e Lorenzo Fragola e dal pari della band Elio e le storie tesi.